bella a tutti i miei slime qui al bentornati nel mio canale eccoci qui con un nuovo video e oggi parliamo di cinque rapper americani davvero troppo underrated questa volta una top five li ho messi in ordine in base a quanto personalmente mi piacciono e prima di cominciare volevo fare una premessa al volo innanzitutto voglio sapere nei commenti tutte le vostre top 5 di rapper che secondo voi meriterebbero più visibilità e poi per evitare qualche fraintendimento facciamo una piccola distinzione tra l'essere emergente e l'essere underrated in un certo senso l'emergente deve essere ancora valutato quindi ha bisogno di tempo perché la gente non lo conosce invece io in questo video ho preso in particolare cinque rapper che alle loro spalle hanno diversi progetti droppati ma che nonostante questo non ricevono la visibilità che secondo me meriterebbero partiamo dal quinto talks and bone funny e spero di averlo pronunciato correttamente ma dubito uno degli artisti che più mi sta a cuore classe 93 se ne avete sentito parlare molto probabilmente è perché il suo nome viene associato a gente come plebo e carti o uno dei activisti anche perché le carriere di questi tre artisti partono contemporaneamente come alcuni di voi sapranno carti e uno sono cugini e possiamo dire che tutti e tre hanno iniziato a fare musica insieme negli anni purtroppo il gambe con carti si è un po spezzato ma al contrario si è rafforzato un po quello con uno e negli anni fino ad oggi sono usciti due loro joint tape for craft's sake uno e due solo il due però è disponibile sulle piattaforme digitali in generale lui come artista è molto attivo e sono tanti i progetti usciti fino ad oggi e questo secondo me in parte l'ho anche penalizzato più o meno droppa due tre progetti all'anno e questo vuol dire che magari una canzone non ha nemmeno il tempo di rimanerti in pressa che poi il mese dopo droppa altre 15 canzoni per farvi un esempio un po più concreto sono dieci i progetti presenti sul suo spotify e onestamente non tutti e dieci sono così memorabili ma appunto droppando così tanta musica questo può succedere vi cito i miei album preferiti in modo tale che se qualcuno lo vuole scoprire approfondire ha una base dalla quale partire e farò così anche per gli altri artisti entrambi sono usciti lo scorso anno e sto parlando di clairvoyance e fall sono abbastanza brevi sulla mezz'ora quindi comunque anche ad ascoltarli non ci mettete nulla fossi in lui ora come ora cercherei un attimo di concentrarmi più sulla qualità che la quantità della musica e magari al posto di droppare i due progetti all'anno ne droppi uno unendo tutte le canzoni migliori che hai a disposizione c'è anche da dire che proprio il suo sound è molto particolare è non adatto al pubblico mainstream o comunque non tutti riescono o possono apprezzarlo in pieno detto questo a me comunque rimane un artista che fa impazzire passiamo al rapper numero quarto k glock lui probabilmente un po più conosciuto è del 97 ed è il più giovane di questa lista originario di memphis a 20 mesi dalla sua nascita la madre veniva condannata a 15 anni di prigione il padre invece andava e veniva diciamo che non era presentissimo e lui infatti viene cresciuto per lo più dalla nonna a 18 anni riceve tre capi di accusa per un'aggressione aggravata legata alla sua presenza durante una sparatoria questo comunque per farvi un po l'idea del background di questo ragazzo probabilmente il suo nome l'avete già sentito associato a quello di young dolf questo perché oltre a far parte della sua etichetta ed essere rispettivamente cugini i due in questi anni hanno droppato due joint tape dumb and dumber 1 e 2 usciti tra il 2019 e il 2021 vi consiglio di recuperarli perché specialmente forse il secondo è un po pesante ma all'interno ci sono hit clamorose tra le sue influenze più grandi il rapper stesso cita gucci main lil wayne ma soprattutto i 36 mafia già da questi nomi potete farvi un'idea sul suo sound nonostante la giovane età ha già diversi progetti alle spalle la sua carriera inizia nel 2017 con glock season che poi darà inizio a questa piccola saga che andrà avanti con glock bond uscito nel 2018 e glocoma nel 2019 specialmente quest'ultimo insieme a yellow tape che poi uscirà nel 2020 sono i suoi due migliori album e quelli che vi consiglio di recuperare in particolare glocoma se state cercando qualcosa di hard diverse produzioni sono state fatte da take it e ci sono dei banger davvero carini invece yellow tape probabilmente il suo lavoro più maturo fino ad ora e c'è ogni sfumatura del suo stile quindi se cercate qualcosa di più variegato vi consiglio di partire da lì secondo me anche uno dei migliori progetti usciti lo scorso anno ora entriamo nella top 3 e andiamo avanti con il terzo rapper young nadi sicuramente se avete sentito il suo nome è perché è il cugino di 21 savage tra l'altro entrambi coinvolti nella vicenda che molti di voi ricorderanno del 2019 che erano praticamente dei clandestini in quanto dei loro documenti passaporti erano scaduti da davvero tanto tempo però vabbè ad oggi è una questione comunque risolta classe 92 origini giamaicane nato ad atlanta il suo nome nella scena già da diverso tempo si mette in mostra con la celebre saga slime che conta tre album usciti tra il 2016 al 2018 il suo stile molto particolare caratterizzato soprattutto dalla voce che è alquanto singolare nella scena americana a metà tra trap e mambo rap lo definirei riesce anche a essere abbastanza versatile ma sicuramente uno dei difetti che almeno io ho riscontrato nel suo sound è che la voce in ogni canzone proprio a livello di tono è molto simile e quindi questo a lungo andare può un po stancare o comunque annoiare i miei suoi due album preferiti sono slime air and nadyland il primo totalmente prodotto da pierre borne molto figo musicalmente parlando da ascoltare magari quando si vuole un po chillare e i due formano secondo me una coppiata davvero davvero forte e spero che tornino in futuro magari con il secondo capitolo in generale con un altro joint album il secondo invece ha un'impronta molto più trap uscito nel 2017 e vi consiglio assolutamente di ascoltarlo perché all'interno ci sono due tre canzoni che poi sono tra le migliori che ha fatto tuttora il secondo posto invece se lo porta a casa money bag yo non mi stancherò mai di dirlo ma non capisco perché quando si parla di trap non viene quasi mai menzionato il suo nome perché secondo me anche rispetto a gente molto più grande di lui ha poco davvero da invidiare poi sono ormai diversi anni che sta droppando album assurdi per esempio da poco quest'anno è uscito a gangsta spain l'anno scorso time served e non capisco quando la gente avrà intenzione di svegliarsi su di lui nato a memphis nel 91 forse lui è il più grande di questa lista e tuttora ha un contratto con la label di yogotti qualche piccola curiosità random sul suo conto ha otto figli quattro maschi e quattro femmine praticamente perfetto ha avuto una relazione con la rapper megan di stellion e tuttora è insieme all'ex ragazza di g erbo ma tornando un attimo in tema è gangsta spain è uscito proprio quest'anno come dicevo prima ed è riuscito a conquistare il primo posto della chart billboard costituendo chiaramente un record per il rap vendendo 110 mila copie nella prima settimana un record per lui anche questo si era avvicinato a questo traguardo con time serve che l'anno scorso droppò terzo nella chart billboard e sono contentissimo per lui perché forse vuol dire che piano piano sta iniziando ad avere il riconoscimento che si merita anche nel suo caso forse è un po' penalizzato dal suo tono della voce è molto simile in tutte le canzoni che fa per carità riesce anche nelle parti musicali ma chiaramente quelle hard li riescono molto più naturali e meglio ha un sacco di progetti alle spalle per citarne giusto qualcuno tra i più carini vi dico code red joint tape con black youngster uscito proprio lo scorso anno reset primo album studio del rapper forever heartless secondo album studio e feds baby joint tape con young boy never broke again uscito nel 2017 arriviamo finalmente al primo posto g erbo è vero senza alcuna ombra di dubbio il più mainstream di questa classifica ma l'ho messo anche per questo non importa quanto la gente dica erbo è forte erbo è forte perché in realtà un quarto di chi lo dice se lo ascolta davvero e soprattutto qui in italia che secondo me in quattro gatti a malapena sappiamo chi è vi dico io chi è classe 95 direttamente da chicago g erbo è ormai una bandiera della drill uno dei migliori esponenti di questo genere e ormai a conferma di questo ci sono innumerevoli progetti specialmente quelli usciti negli ultimi anni e già che stiamo in tema parliamo di 25 l'album che è uscito a malapena una settimana fa 25 come i suoi anni attualmente che è un numero molto importante per il rapper anche perché ha visto morire uno dei suoi migliori amici una settimana prima che diventasse 25enne racconta tutto il dolore tutto quello che ha visto in questi anni di vita è una cosa molto curiosa e secondo me bella è che tutto il ricavato di questo album andrà praticamente come eredità ai suoi figli ma facciamo un piccolo passo indietro e torniamo all'anno scorso quando a febbraio ha droppato ptsd il suo terzo album studio supportato anche da una deluxe edition di 14 brani uscita tre mesi dopo il drop dell'album originale abbiamo un totale di 28 tracce il risultato 28 bombe che mettono in piena mostra la maturazione di erbo ma soprattutto rappresentano al meglio il suo stile grezzo cattivo barre su barre se si tratta proprio di fare rap proprio nella sua essenza g erbo secondo me è uno dei migliori in circolazione anche nel suo caso se riuscisse a migliorare il lato musicale diventerebbe un artista ancora più completo ma per quanto mi riguarda mi va benissimo anche così come fatto invece parlando dei suoi progetti un po più vecchi quelli che secondo me meritano almeno un ascolto sono swervo e still swerving due joint tape prodotti totalmente da south side e humble beast uscito nel 2017 insomma ragazzi questa era la mia top five di artisti secondo me molto molto underrated che in questi anni hanno gettato tanto e probabilmente avrebbero meritato di raccogliere qualcosina in più qual è la vostra top 5 di artisti sottovalutati fatemela sapere assolutamente qui nei commenti anche un nome tre nomi tutti quelli che volete sono molto curioso e li leggerò tutti i commenti se il video vi è piaciuto chiaramente vi invito a lasciare un mi piace nel caso in cui non lo foste iscrivetevi al canale se lo siete già attivate la campanellina così non vi perdete alcun tipo di video arriva la notifica ve la vedete e stiamo di pietra condividete questo video con quanta più gente volete e potete noi ci vediamo ad un prossimo slè iscriviti al canale grazie a tutti